Mi sembrava giusto, vista la mia precedente esperienza nel settore arredamenti, farò un piccolo special qui sulla strada Michele. Qua abbiamo un palegname sulla nostra destra, e un lacanale. Le linee sono molto semplici. Ecco, mi hanno scelto questo studio, penso che sia il poco di design più interessante che ho visto, più in giro. Questa è un po' di potenza, ma che lavora, un lacaniere. E di là invece un bel negozio di divani, con delle cosine, voglio dire, un perché. E poi niente, basta, è finita già la puntata di design da quelle. Anzi no, scusatemi, mi sono dimenticato che c'era il secondo palegnano. Orca. Qua si fanno seramenti, porte, qua c'è una tessuta. Ecco, poi quando vi volete far bello, venite qua. Invece. Saluti a tutti, viaggiatore volontario che le Senegal...